Tutorial della coreografia sulla canzone Apple di Charlie XCX Sta andando moltissimo di moda questa coreografia su TikTok e quindi piccolo tutorial per farla al meglio Partiamo, i primi otto tempi sono un po' lenti perché da qui le braccia andranno a incrociare potete farlo un pochino più basso, potete farlo un pochino più incrociato poi faranno un, due, tre, quattro, cinque, sei, sette e otto avremo e otto, quindi con anche chest pump quindi da qui sette e otto quindi rivediamo un, due, tre, quattro, cinque, sei, sette e otto da qui le braccia, se avevo su questo braccio in questo caso è la mia destra vado verso destra e faremo uno, due, tre, quattro siamo già vicini al fianco sinistro e quindi cinque, sei, sette, otto fermi attenzione questo è il pezzo in cui ci si sbaglia un pochino più con i tempi l'otto sono qua quindi da qui un, due, tre, quattro, cinque, sei, sette e otto un, due, tre, quattro, cinque, sei, sette e otto perché adesso al, e uno, avremo e uno è proprio veloce pan pan, mezzo tempo, mezzo tempo quindi da qua un, due, tre, quattro, cinque, sei, sette e otto e uno, due, tre, quattro facciamo un cuore sopra la nostra testa non quello dei giovani ma un cuore vecchia maniera ok? quindi siamo arrivati qua otto e un, due, tre, quattro da qui lo spezziamo in età cinque, sei, sette, otto l'ultima parte allora si può fare in due modi cioè quella originale e quella traslata che viene fatta di più quella che viene fatta di più è un, due, tre, quattro, cinque, sei, sette e otto la versione originale sarebbe uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto se volete le potete unire tipo se vedete nella mia versione le ho un pochino unite ho fatto un, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto con la gamba vediamola adesso con la musica rallentata un, due, tre, quattro, cinque, sei, sette e otto un, due, tre, quattro, cinque, sei, sette e otto e un, due, tre, quattro, cinque, sei, sette e otto un, due, tre, quattro, cinque, sei, sette e otto un, due, tre, quattro, cinque, sei, sette e otto